oh eccoci qua amici che palle qua tra tra persone che vogliono recuperare il morale di donna rumma e persone che vogliono tornare perché hanno capito di aver sbagliato noi coglioni pieni meno male che riprende il campionato oggi almeno parliamo un po' di calcio bella ragazzi buongiorno buongiorno a tutti bentornati qua sul canale dal vostro amico nella casa del pane balloon buon sabato a tutti ragazzi oggi è sabato e domani non si va a scuola c'era una nota canzone bene ragazzi allora mega giornata di campionato si inizia alle 15 con spezia a cagliari e secondo me deve essere una partita molto interessante perché comunque zona retrocessione zona salvezza perciò sarà bella intensa salernitana sassuolo poi alle 18 ci sarà sandoria juve per chiudere poi con milanimpoli e ragazzi oggi bisogna cercare di vincere a tutti i costi non si può sbagliare ragazzi perché sennò dopo non siamo più credibili per il nostro campionato perciò cerchiamo di giocare alla grande va bene ragazzi allora facciamoci due chiacchiere insieme fatemi ricordare di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto attivate la campanella così rimanete aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti ragazzi mi raccomando attivata la campanella quella è molto importante non è una rottura di palle vi manda le notifiche ogni volta io pubblico un video rimanete sempre belli aggiornati detto questo ragazzi bel like quello è importantissimo aiuta a sostenere il canale perciò fatelo subito e condividete il video con altre persone allora ragazzi partiamo io oggi sono un pochettino oggi pomeriggio non riesco a vedere partite perché poi devo andare a vedere i miei due ragazzi e non riuscirò a vedere perciò non riusciremo a commentare magari vedremo la juve perché a quell'ora sarò già tornato per le 18 poi vabbè lo faremo insieme però c'è da dire che stasera il milan deve cercare a tutti i costi cercare a tutti i costi di vincere cioè stasera senza se senza ma ragazzi non si può sbagliare non si può sbagliare perché ne va della credibilità del nostro campionato nel senso e non che poi non sia credibile però insomma arrivati a questo punto tu devi fare di tutto per cercare di vincere ora non si ora non ci si può più nascondere prima dovevamo potevamo dire dobbiamo migliorare il punteggio dell'anno scorso vogliamo migliorare il campionato dell'anno scorso vogliamo fare bene ogni partita adesso però non ci si può più nascondere a 10 partite dalla fine con gli scontri diretti quasi tutti con quelli in alto tutti tutti fatti abbiamo giocato con tutto nella classifica vulsa siamo primi ragazzi mancano 10 partite te la devi giocare non hai nulla se non la semifinale di coppa italia ritorno ma mancherà ancora un mese perciò devi giocarti tutto per tutto e stasera in casa con con il nostro pubblico dalla nostra non possiamo permetterci di sbagliare empoli o non empoli anche se poi sarà sicuramente una partita difficile perché poi insomma l'empoli gioca arriva da da una serie di non risultati sono 11 partite che non vince non di non risultati sono 11 partite che non vince ha fatto sei pareggi cinque sconfitti sicuramente non è uno score bellissimo anche se poi in principio aveva fatto bene insomma sarà una partita difficile però il milano deve vincere non ce ne è non non si può scherzare bisogna entrare in campo e danno segnale forte e cercare di mandare i gugini a meno 5 perché ragazzi mandarli a meno 5 e a meno 6 il napoli insomma è vero che poi dopo avranno loro la loro giornata da giocarsi domani però intanto devi poi dopo a tutti i costi a tutti i costi fare il risultato perciò giochi con quella cosa lì che insomma non è semplice io devi dare una bella botta devi dare una bella botta oggi ragazzi perché perché ne vale tanto ne vale tanto è vero che poi dopo settimana prossima ce ne sarà un'altra saremo sempre qua a dire a dire sempre più o meno le stesse cose però oggi secondo me è importantissima perché tu dai una risposta e dai continuità alla partita giocata a napoli se no poi dopo veramente ti mettono l'etichetta della squadra che fa bene con le grandi e poi con le piccole niente siccome in un campionato ci sono più piccole che grandi e diventa difficile vincerlo se poi fai così rimani e con tutto il rispetto perché è molto forte come squadra a me piace molto però rimane il sassuolo di tutto di turno che a metà classifica prevamento a san siro con l'inter a milano a san siro col milan a torino con la juve insomma e però è lì perciò se fai bene con le grandi non fai bene poi anche le altre diventa difficile oggi bisogna è importantissimo ragazzi è molto 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 importante poi ho visto che adesso tornando un pochettino al al discorso tornando volevo aprire un pizzico il discorso del dell'articolo letto stamattina sul giornale sul lukaku che vuole tornare ha già chiamato l'inter è pronto a ridursi l'ingaggio ma scusatemi ragazzi perché è cioè lui adesso è pronto a ridursi l'ingaggio però l'anno scorso l'anno scorso sette mesi fa è stato pronta ad andarsene via per avere quell'ingaggio là e ora invece vuole tornare indietro per perdere sei sette mesi ma perché per quello e poi i soldi che ha tirato fuori il celsi chi glieli ridà il celsi è vero che adesso sono i problemi delle delle abramo c'è tutto però comunque sta di fatto che non è che mo perché c'è questo problema qua tu prendi il celsi celsi è una società prima o poi qualcuno la comprerà e quando la comprerà deve rientrare che poi prende tu prendi cento e passa milioni a a bilancio e ti diamo in prestito ti regaliamo all'inter perché tu vuoi fare e chi sei che fai tu bello il cattivo tempo primo poi bisogna vedere se l'inter ti riprende perché anche a sette milioni e mezzo diventa diventa bello tosto l'ingaggio faticano a rinnovare a Brozovic ancora oggi non è stato rinnovato e due settimane fa mi ricordo che era l'ultima settimana domani rinnova domani in sede e ancora non ha rinnovato perciò diventa difficile un po notizie io non credo neanche che Lukaku abbia detto questo poi magari nelle sue volontà ci sia anche quella cosa di tornare perché ovviamente tu pensi all'anno prima che hai fatto bene quest'anno non sei considerato sei sempre in panchina sta andando male insomma è ovvio che ti viene il magone pensi a quello se potessi però non penso che l'abbia detto non penso che abbia anche la faccia di dire una cosa del genere la faccia di tolla di dire una cosa del genere no hai fatto tutto tu te ne sei scappato come un rapinatore di notte a fine agosto e adesso mi sembra un po' strano vedremo vedremo come andrà a finire ma secondo me sono un po' da riempi prime pagine di giornale queste notizie qua e poi volevo anche dire anche ho visto che anche Mijailovic insieme a Buffon hanno preso le difese del portiere Donnarumma siete troppo cattivi ha sbagliato ma siete troppo cattivi ma cattivi a chi? chi è che è troppo cattivo? cioè ragazzi lui ha fatto una scelta di vita professionale ed è giusto che per quello che lui percepisce e per come si pone anche che lui fa sempre capire che il Paris Saint Germain l'abbiamo voluto insieme io volevo loro cioè tu adesso devi anche accettare le critiche quando sbagli a quei livelli si accetta tutto perché la campana di vetro che ti avevano creato nel Milan che quando sbagliavi nessuno diceva mai niente nessuno ti insultava mai né in squadra né nel presidente né i tuoi compagni né i tifosi nessuno è finita là hai voluto quell'ingaggio lì fai il figo fai l'eroe dei due mondi e adesso ti devi accettare anche le critiche quando sbagli e il gioco delle parti è quello ragazzi perciò c'è poco siete cattivi cattivi di che cosa? chi gli ha fatto niente? poi se si rivolge a chi magari fa nei social ma quello nei social magari qualche fotomontaggio qualche sfoto in più ma quello lo fanno a chiunque non solo a Donnarumma perché avete sempre questa protezione verso sto ragazzo indifeso no è tutto tranne che indifeso il ragazzo tutto tranne che indifeso non c'è da proteggerlo non c'è niente nessuno gli ha fatto niente si prende le sue critiche perché ha fatto un errore basta domani si riprende è inutile prendere tutti dei Buffon tutti che prendono le difese di Donnarumma non riesco a capire che cosa ha fatto mai per essere così difeso questo ragazzo va bene ragazzi ci siamo fatti una chiacchierata oggi è sabato ci vediamo stasera stasera mi raccomando ricordatevi il dopo partita di Milan Empoli ci sarà il dopo partita commenteremo anche la Juventus e poi farò la live reaction perciò mi raccomando stasera giornata piena stasera e domani bene ragazzi vi auguro una buona giornata ci vediamo più tardi come dico sempre io ciao